Ed ora la conta dei danni, smottamenti, allagamenti e stato di crisi in tutto il Veneto, praticamente tutte le province sotto osservazione della protezione civile. Un uomo è morto lunedì sera dopo essere stato travolto da un albero caduto a causa dei forti venti che si sono abbattuti in serata a Feltre. Molte attività commerciali sono attualmente allagate, centinaia di persone sfollate nella notte di lunedì, alcuni ponti chiusi e sotto osservazione come pure tratti di strade e ferrovie. Il presidente della regione Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la regione del Veneto. Grazie a tutti.